Il 14 maggio 1983, a Milano, sei uomini morirono nell'incendio di un cinema porno. Non fu un incidente. L'incendio venne appiccato da fanatici neonazisti che volevano purificare il mondo. È il più grave attentato a Milano dopo Piazza Fontana. Eppure tutti l'hanno dimenticato. Sono Alessandra Coppola e questo è Cinema Eros, la strage dimenticata. Un podcast di Fondazione Corriere della Sera con il patrocinio di Fondazione Cariplo. Prodotto da Corriere della Sera in collaborazione con Cora Media.